Di aprile del 2024, Leonardo Franci in Exit Advisor, qui per la rubrica i titoli caldi del canale Videotips e andiamo a vedere quello che è un titolo da un punto di vista tecnico e da un punto di vista fondamentale che negli ultimi giorni è sulla bocca di tutti a causa del rilascio del record earning relativo al trimestre passato, al quarter di passato. Il titolo in questione è Tesla, andiamo a guardarlo da un punto di vista tecnico, da un punto di vista fondamentale e capiamo quali sono le prospettive a tendere di questo titolo di cui i prossimi mesi barra trimestri. Partiamo al trimestrare scendendo poi al quadro mensile. Inseriamo adesso i disegni e vediamo un attimo che Tesla è inserito all'interno di un triangolo di congestione abbastanza visibile che parte dal minimo del 2020 passando per il minimo del 23 e ancora per il minimo corrente non ancora completato del quarter lì del trimestre presente. massimi decrescenti con il massimo dell'ottobre 21 e poi ancora l'aprile 22 e ancora del luglio del 2023, ovvero del Q3 al di sopra il quale si trova una buy side liquidity abbastanza pronunciata in area 300 dollari e ancora l'altra buy side liquidity, la troviamo a 101,81 al di sotto appunto del minimo battuto nel 2023. Anno 2024 è iniziato all'insegna di un trend palesemente ribassista con la violazione del minimo di spike del Q2 del 2023 posto in area 152 e 37. Buona la reazione con la pinbar rialzista che è una pinbar ovviamente in formazione, è una pinbar completata, la vedremo soltanto a fine del trimestre corrente sulla trend line rialzista, buona la reazione appunto dopo aver cacciato gli stop al di sotto la sell side liquidity, trend line rialzista che si pone come spartiacco e come barriera per una prosecuzione ulteriore, borsa e prosecuzione con la violazione appunto nel minimo a 101,81 e la totale mitigazione e riempimento del fair value gap con il livello posto a 72,51. Andiamo adesso sul quadro mensile per capire se ci sono delle possibilità di ingresso, quali sono gli scenari a tendere, sul quadro mensile vediamo ancora, vediamo che il trend è palesemente ribassista, massimo del luglio 23, minimo dell'ottobre 23 e ancora massimo del dicembre 23 e ancora minimo corrente, battuto con l'aprile 2024. Fair value gap ribassista è lasciato durante la discesa tra 205 dollari e 228 dollari, abbiamo ancora una volta un trigger che è posizionato al di sopra del massimo del marzo 2024, questo trigger, cioè la chiusura di sopra di esso quantomeno sul mensile posto appunto a 204,52, farebbe vedere, farebbe propendere per un scenario palesemente rialzista con appunto la mitigazione del fair value gap lasciato, un ritesto del blocco d'ordine rialzista che si potrebbe venire a creare con la candela del marzo 2024, una prosecuzione verso il primo target, la caccia di stoppa di sotto il massimo di spike, scusate il massimo di spike dicembre 23 e ancora l'ottobre 23 e ancora il settembre 23 fino ad raggiungere quello che è il nostro target price appunto nel caso di un scenario rialzista in area 300 dollari a un 70-80% dai livelli correnti, più o meno 150-140 dollari livelli correnti. Nel caso invece in cui assistessimo la chiusura di mese sempre al di sotto del minimo minimo apertura del febbraio 2024, questo farebbe propendere invece al contrario per una prosecuzione dello scenario ribassista avvenuto appunto con il forte cambio di carattere del gennaio del 2024, una breakout market structure, quindi una BOS ribassista con le chiusure di sotto del minimo di spike lasciato a proprio durante il mese corrente in area 138-80, una violazione di asset side liquiditi e quindi una mitigazione del fair value gap a 72-51 dollari, ovvero a più o meno un meno 50% a livelli correnti. Non vediamo in questo momento setup di ingresso, per un scenario rialzista attendiamo appunto la rottura dei 205 dollari circa, confermata sul livello mensile, per un'attenuazione o mitigazione del rischio, attendiamo un ritest, ci siamo, siamo prossimi quantomeno sul daily e sul settimanale dell'area ricompresa tra 176 e 188 e siamo quindi molto attendisti su questo titolo perché in questo momento non c'è un chiaro scenario, vediamo questo forte triangolo di congestione ormai perdurante da qualche anno, la cui violazione farebbe ovviamente, darebbe via, darebbe il là ad un movimento forte ribassista che andrebbe a rivedere quei livelli che abbiamo toccato durante la primavera, l'inverno e la primavera del 2020, prima del rialzo della gamma rialzista, in questo caso avremo il totale riassorbimento dell'eccesso di domanda avuto proprio durante l'anno 2020, guardiamo velocemente le case stat del titolo, titolo che ha un price earning esuberante, 41 anni per recuperare un dollaro a parità di utili attesi, nessun dividendo rilasciato, un beta che ci fa vedere che è un titolo abbastanza aggressivo rispetto allo standard pur 500, segnali che quantomeno sul giornaliero sono in buy, ma se andremo a vedere quelli tecnici sempre riguardanti la tendenza sul mensile e sul settimanale rimangono strong sell, rating degli analisti neutrale con un target price a un anno a 183,78, più o meno a 10% a livelli correnti e se andiamo a dare uno sguardo veloce alla parte dei financial vedremo ancora una volta anche altri indicatori che in questo momento si sono molto esuberanti, molto esosi, testimoniano un eccesso di valutazioni di questo titolo, price earning presto siete razio a 6 ma soprattutto presto bucrazio a 8 quindi il titolo sconta 8 volte i valori di libro ancora pertanto guardando ai fondamentali e agli indicatori non è a fair value, quindi molta indecisione su questo titolo, siamo attendisti, attendiamo per un ingresso long, rotture sul mensile al di sopra dei 205 dollari con questo è tutto, vi auguro un buon proseguimento, un buon fine settimana a Leonardo Franci e da Nextit Advisor, a presto!